Ciao a tutti e benvenuti a questa seconda lezione del mio corso d'inglese. Quest'oggi affronteremo tre nuovi argomenti, ovvero vedremo che cosa sono e quali sono le question words, quindi who, what, where, when, ovvero sia chi, cosa, come, dove, quando e molti altri ancora, gli articoli, sia determinativi che indeterminativi, e inoltre inizieremo a introdurre i paesi e le rispettive nazionalità. Iniziamo quindi con il primo argomento della lezione, ovvero le famose question words. Così come in italiano, anche in inglese, si devono utilizzare delle parole all'inizio di una frase per esprimere una domanda a seconda di ciò che si vuole chiedere, ad esempio chi, quale, che cosa, dove, quando, come, perché, e molti altri ancora, e così come in italiano, anche in inglese ci sono diverse question words, a seconda appunto di ciò che si vuole chiedere. Qui di seguito ne vediamo elencate alcune, tra le più utilizzate nella lingua parlata di tutti i giorni. Iniziamo con who, che si traduce con chi, ad esempio who is the man over there, tradotto chi è quell'uomo in fondo. Poi abbiamo what. What è particolare nel senso che a seconda del contesto può significare quale oppure che cosa. Vediamo subito un esempio. What is your name? Qual è il tuo nome? In questo caso what viene utilizzato per tradurre qual è. Che cosa invece si può ad esempio utilizzare come per esempio che cosa fai durante il pomeriggio? What do you do in the afternoon? Ecco quindi che in questo caso what viene utilizzato con per tradurre che cosa. Passiamo poi a where. Where traduce il dove, ad esempio where are you from? Da dove vieni? When invece traduce quando. When is your birthday? Quando è il tuo compleanno? How traduce come. How are you? you? Come stai? E infine abbiamo why. Perché? Why are you late? Perché sei in ritardo? in ritardo. Proseguiamo con un primo esercizio riguardante le question words. In questo caso sono presenti due colonne. Sulla sinistra sono presenti dieci frasi in lingua inglese e sulla destra le rispettive frasi tradotte in italiano. Al posto dei puntini dovrete mettere la question word più adatta in base alla risposta. Quindi un consiglio è guardare bene la risposta e da qui risalire poi alla parola giusta da inserire all'inizio della frase. Ancora una volta vi invito poi una volta completato l'esercizio vi consiglio sempre comunque di trascriverlo, trascrivere gli esercizi su un foglio in modo tale che sia più semplice da rivedere successivamente e anche proprio per iniziare a memorizzare la grammatica inglese e proprio come si traducono in forma scritta molte parole che in inglese col tempo poi diverranno sempre più familiari. Proseguendo il video quindi potrete verificare se le vostre risposte sono o non sono corrette in base alle soluzioni date. Ecco quindi qua le soluzioni di questo primo esercizio. Iniziamo subito con la prima frase. What is his name? His name is Mark. Qual è il suo nome? Il suo nome è Mark. How old is he? He is 24. In questo caso ad esempio guardiamo la risposta. He is 24 si può anche abbreviare in questo modo ovvero per chiedere l'età basta semplicemente di rispondere in questo caso lui ha 24 lasciando sottintendere 24 anni. Altrimenti si potrebbe estendere la risposta dicendo he is 24 year old. Lui è 24 anni vecchio tradotto. In questo caso la traduzione è quanti anni ha? Lui ha 24 anni. Terza frase. Where is the car? It is in the garage. Dov'è la macchina? È in garage. What is your job? I'm a doctor. Qual è il tuo lavoro? Sono un dottore. How are they? They are my parents. Chi sono loro? Loro sono i miei genitori. How are you? I'm fine thanks. Come stai? Sto bene grazie. What time is it? It's half past 8. Che ore sono? Sono le otto e mezza. Non vi preoccupate perché l'argomento diciamo dell'orario come si pronuncia come si dice un'ora ben precisa lo vedremo poi successivamente. What is your favorite color? red. Qual è il tuo colore preferito? Rosso. Where is it? It's under the table. Dov'è? È sotto il tavolo. Why are you at home? I'm sick. Perché sei a casa? Sono ammalato. Proseguiamo con un ulteriore esercizio riguardanti sempre le question words. Qui di seguito abbiamo un piccolo dialogo fra due persone. La persona A e la persona B. La persona A come possiamo notare sta facendo delle domande alla persona B la quale sta dando delle risposte. Di conseguenza lo scopo di questo esercizio è quello di fare delle domande adeguate alle risposte che il personaggio B sta dando. Ancora una volta vi invito a trascrivere quindi le vostre risposte e proseguire una volta fatto con il video per verificare se le vostre risposte sono o non sono giuste in base poi alle soluzioni. Ok ecco quindi le soluzioni di questo secondo esercizio. Iniziamo. What is your name? David Parker. What is your job? I'm a policeman. Quindi sono un poliziotto. How old are you? I'm 24. Where are you from? I'm from London. Quindi da dove vieni? Io vengo da Londra. Who is the girl in the photo? She is my colleague. In questo caso è chi è la ragazza nella foto? Lei è una mia collega. Where is she from? She is from London too. Da dove viene lei? Lei viene da Londra. Anche lei da Londra. How old is she? She is 23. Passiamo poi al secondo argomento di questo nostro secondo video ovvero la differenza fra articolo determinativo e articoli indeterminativi. Così come in italiano anche in inglese facciamo una distinzione appunto fra gli articoli determinativi e gli articoli indeterminativi. Per quanto riguarda l'inglese forse un po' più semplice riguardo l'articolo determinativo in quanto questo viene tradotto con the che traduce l'italiano il lo la i gli le e come possiamo vedere dalla tabella si usa con sostantivi maschili femminili e neutri sia singolari sia plurali. Possiamo vedere alcuni esempi. The boy, il ragazzo. The girl, la ragazza. The house, la casa. Dall'altra parte invece abbiamo gli articoli indeterminativi quindi traducono l'italiano un, uno, una, un con l'apostrofo anche. Gli articoli indeterminativi a differenza dell'articolo determinativo si utilizza con sostantivi maschili femminili e neutri numerabili, solamente numerabili, cioè quei sostantivi che si possono effettivamente contare. Ad esempio una casa è una quantità numerabile, la sabbia ad esempio non è una quantità numerabile, oppure la farina in quanto non è possibile, oppure lo zucchero, sono tutte quantità non numerabili in quanto non è possibile contare i singoli granelli di sabbia, di zucchero, eccetera, mentre invece una casa è un oggetto numerabile. A house quindi è numerabile. Vediamo alcuni esempi per l'appunto. A cat un gatto, an orange un'arancia. A house una casa. Attenzione a una cosa per quanto riguarda gli articoli indeterminativi. Come abbiamo visto ce ne sono due, a e an. La differenza sta nel fatto che si utilizza a davanti a nomi che iniziano per consonante, ad esempio a cat, un gatto, mentre invece si usa an davanti a nomi che iniziano per vocale, ad esempio an orange, quindi un'arancia. Passiamo quindi ad un primo esercizio riguardante gli articoli. In questo caso sono riportati alcuni nomi e a seconda del nome della lettera con cui inizia bisogna inserire l'articolo indeterminativo appropriato. Ancora una volta vi invito una volta ad aver completato il vostro esercizio di proseguire con il video per verificare se le vostre risposte combaciano con le soluzioni. Ok, ecco le soluzioni di questo primo esercizio. Vediamole subito insieme. A passport, an airplane, an apple, a hospital, a window, a boy, a girl, a holiday, a table, a pie, a pencil, a house, a picture, a school, a computer, a phone, a chair, a oven, a screen, a shoe, a point, a bird, a cat, a dog. Proseguiamo con un ulteriore esercizio per quanto riguarda gli articoli. In questo caso sono riportate 6 frasi, 6 mini dialoghi insomma e l'obiettivo di questo esercizio è di inserire anche qui l'articolo indeterminativo appropriato. Attenzione facendo sempre riferimento alla lettera con cui inizia la parolina dopo i puntini di sospensione. Una volta completato l'esercizio proseguite con il video per verificare se le vostre risposte coincidono con le soluzioni. Ok, iniziamo con il primo mini dialogo. Questa è una tigre? Sì, questa è una tigre indiana. Lui è un astronauta? Sì, lui è un astronauta russo. Lui è un musicista? Sì, lui è un eccellente musicista. Ghana è un paese? Sì, è un paese dell'Africa. Megan è una modella? Sì, lei è una top model australiana. The Po is a river? Sì, it's an Italian river. Il Po è un fiume? Sì, è un fiume italiano. E infine abbiamo il nostro ultimo argomento di questa seconda lezione, ovvero i paesi e le nazionalità. Sulla sinistra, in questa tabella, sono elencati alcuni nomi dei paesi più importanti, insomma, più menzionati. E sulla destra la rispettiva nazionalità. Quindi, quando noi, ad esempio, in una domanda vogliamo dire, rispondere alla domanda da dove veniamo, ad esempio, potremmo rispondere io vengo dall'Italia. I come from Italy. In questo caso utilizzo Italy in quanto io sto rispondendo al nome qual è il tuo paese, da dove vieni. Io vengo dall'Italia, quindi Italy è un paese. Se invece mi avessero chiesto qual è la tua nazionalità, avrei risposto I'm Italian. Sono italiano. E non I'm Italy. Quindi non risponderò mai io sono Italia, ma dirò io sono italiano, che tradotto in inglese è I'm Italian. E lo stesso vale per tutti gli altri paesi. Quindi vi invito, se avete la possibilità, o facendo un esercizio con voi stessi o in coppia, di poter provare a chiedere reciprocamente da dove venite e rispondere con la giusta nazionalità o giusto paese che avete in mente. Proprio per cercare di familiarizzare il più possibile con paesi e nazionalità. Vi ricordo che qua di seguito sono riportati i paesi e le nazionalità principali. Non la toglie che se volete ulteriori nomi di paesi e nazionalità, basta cercare tranquillamente anche in rete o su internet per avere la traduzione di molti altri paesi e nazionalità. Bene, anche per oggi abbiamo finito con questa seconda lezione. Spero che l'abbiate trovata interessante, pertanto vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e a rimanere aggiornati per l'uscita delle prossime lezioni di lingua inglese. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video!